C'è chi dice no e c'è chi dice sì. Il governo dice sì e cambia la Costituzione. No, il governo ha detto no alla Costituzione a cui io dico sì. È per dire sì alla Costituzione che si vota no. E poi non è il governo che può cambiare la Costituzione, tantomeno questo governo. E perché? È perché è stato nominato da un Parlamento eletto con il Porcellum, una legge non costituzionale. Un Parlamento non costituzionale può promuovere la riforma costituzionale? No. Sì, vabbè, ma è una Costituzione che ha 70 anni, è vecchia e stravecchia, basta. La Costituzione americana quanti anni ha? Non lo so. 230! Sì, ma chissà Quante volte l'hanno cambiata? No, cioè sì, per esempio nel 1920 per dare il diritto di voto alle donne e nel 71 per dare il diritto di voto ai diciottenni, ovvero... Ovvero cosa? Ovvero per allargare i diritti, non per restringerli. Vuoi essere moderno? Vota no per difendere i tuoi diritti sanciti dalla nostra vecchia Costituzione. Diritto al lavoro, diritto al decoro, alla salute, finché con l'età, alla pensione, alla pensione, alla pensione diritto si avrà. Diritto al lavoro, diritto al decoro, alla salute, finché con l'età, alla pensione, alla pensione, alla pensione, diritto si avrà. Speriamo.